buongiorno mi fa per dire buongiorno fuori c'è un tempo di non si dice quella parola ma si è capito piove leggermente sta grandinando ma direi leggermente aia mi è arrivato un pezzo di ghiaccio ad osso oh ma sarà prudente no anche poco sembra che sto nevicando invece no mamma mia vabbè prima che veramente mi ammazzo buongiorno per tutto il giorno perché tutto il giorno si fiscerà questo tempo quindi ti sto a caso alla prossima next time bambi a a a a a a a a a